Non fanno più lo sconto delle fatture alle cooperative, che era una delle forme di credito. E occupate ma con un reddito insubicente, quindi appunto un po' di gestione di micro-prendito. Strumenti finanziari a favore delle cooperative sociali, voi sapete che questa situazione si sta anche aggravando, perché l'improvida dichiarazione dell'assessore alla sanità regionale ha portato a far sì che quando uno dice esiti con gente emergente a casa anno 2011-2012 misura 1, palo comune di Brano. Non fanno più lo sconto delle fatture alle cooperative, che era una delle forme di credito. E quindi si porta in generale a una restituzione. Quindi la situazione è molto pesante, perché poi adesso abbiamo avuto il rischio che ASI, l'ospedale eccetera non... Ed è per arrivare al sodo per raccogliere una certa somma da destinare...